Tutti amici vicino a me adesso Certo, è tutti buono Perché adesso iniziamo con le prenazioni dentro Ora con il prenazioni dentro No, iniziamo con le prenazioni dentro Diciamo che cominciamo l'alentivo della sezione cortometraggi con il premio cortometraggio rivelazione per la sedia sul mare prendiamo la regista Elisa Faccioni che dovrebbe essere in sala quindi si viene Elisa Elisa è già stata qui negli anni scorsi se non sbaglio e quindi oggi ritira un altro premio grazie Elisa con pulito rimane piccolo gran premio della giuria cortometraggio l'ultimo stop regista Massimo Ivan Marsetta si ci raggiungi sul palco ciao Massimo a te il premio ora premio della critica il torometraggio al regista Fabio Patrasso per il corto Rutuna intanto piacere l'altro il successivo premio premio del pubblico cortometraggio i colori delle palene regista Leonardo Ginefra e io direi chiamerei anche per il premio cortometraggio sociale che va a preludio e lo ritira il produttore Daniele Graniccia Daniele Graniccia se viene che la regista Stefania Grazia non è potuta venire viene Daniele mettetevi tutti vicini per una foto di gruppo mostrare il premio complimenti complimenti davvero prego grazie a tutti e complimenti ora io vorrei chiamare qui per darci una mano perché queste sono parecchie persone che non si è sul palco il nostro direttore organizzativo Manuel Di Stefano Manuel Di Stefano grazie Manuel complimenti per tutto questo lavoro perché non è facile quattro giorni giovedì venerdì sabato e domenica in posti diversi la fashion pazzesca allora tra la mezza e la con Pasquale poi Pasquale è impegnativo